Il libro della star del tennis, Andrea Agassi, pubblicato nel 2009, non è solo l'autobiografia di un campione, ma è un vero e proprio romanzo di formazione e uno dei più appassionati libri contro lo sport che siano mai stati scritti da un atleta. Dopo l'avversario d'Emmanuel Carrer, invisibile collettivo nel più assoluto rispetto del testo, torna a scandagliare un percorso di formazione identitaria faticoso e avvincente, cercando di scrutare le emozioni che hanno portato Andrea Agassi a trovarsi e a riconoscersi attraverso un processo di abbandono delle maschere a lui attribuite prima dalla famiglia, poi dai fans e dallo star system che hanno fatto di lui un'icona degli anni 90. Un padre ossessivo e brutale che lo vuole numero uno al mondo, allenamenti disumani contro il drago sputapalle, una carriera lunga vent'anni e mille match, imprese memorabili e parabole discendenti. In scena al Teatro San Nazaro, nell'ambito della sezione sport opera del Napoli Teatro Festival, una favola contemporanea di un bambino che ha fatto della sua vita l'incarnazione del sogno americano, come spiegano gli attori di Invisibile Collettivo. La scelta di lavorare su questo libro è legata anche al fatto che Agassi ha avuto la geniale idea di farsi aiutare da un premio Pulitzer, cioè da Moringer, che è riuscito a dare forma alla sua vita pazzesca, incredibile, un sogno americano realizzato, attingendo anche a tutta una serie di archetipi letterari e quasi favolistici e quindi ha rimesso in ordine una vita straordinaria. Grazie.